Io non torno più a casa, io non torno più a casa, non ci torno più a casa, perché, perché? Perché ci sono le formiche che escono dai vasi, che escono dai muri e si mangiano tutto quanto, si mangiano le lenticchie, si mangiano le minestre, si mangiano i popcorn e si fanno le ciambelle. Se io pulisco tutto, mi mordono i piedi e devo stare attento che si mangiano tutto quanto. Io non torno più a casa, non ci torno più a casa, io non torno più a casa, perché, perché? Ora sono 500.000, si sta moltiplicando, mi han detto di uscire e di comprarli da mangiare, mi han dato anche la lista, vogliono i biscotti, il miele e il cioccolato e un anno è una slanduria. E se non torno presto, si mangiano il mio letto e se non torno ancora, distruggono ogni cosa, distruggono ogni... Io non torno più a casa, non ci torno più a casa. Allora ho fatto la spesa e poi mi sono comprato un vestito da formica e me lo sono messo e sono entrato in casa, non mi ha riconosciuto, pensavano che fossi anche una formichina. E sai cosa mi han detto? Quando torna Francesco, lo mangiavo, lo mangiamo tutto a pizzettini, ma poi mi han guardato e mi han riconosciuto, allora sono scappato, scappato ogni e per sempre. Non posso più tornare, la vita è un'altra cosa che qui non può cadere, si può solo uccidere, montare, scappare. Io non torno più a casa, non non torno più a casa, non ci torno più a casa, non ci torno più a casa. Da, 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 da. Da, da, da.